Ciao ragazzi! Ciao! No, rifacciamo. Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete, torna con un nuovo video e oggi, con me, ancora una volta, avevo promesso che non l'avrei mai riportato, e invece, eccomi qua, grazie. Oggi, è incredibile quello che ti farò oggi, cioè, tu hai presente la magia finora? Sì. Toglila. Cancellalo. Eliminato. Ecco la magia del giorno d'oggi. Dobbiamo rifare tutto. No, Jack, allora, voglio mostrarti la mia app, Missing. Dai, figata. L'hai vista? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Ok, ora la vedrai dal vivo, per la prima volta. Ti chiedo, per prima cosa, di prendere un mazzo di carte, se sono mille, prendi quello che vuoi tu. Ok, ce l'hai? Sì. Piace? Posso mescolare? Mescolalo. Tanto non serve a niente. Ok. Tanto devi andare a prendere i quattro assi. Ottimo. Vado a pigliare i quattro assi. Pigliare i quattro assi. Uno. I quattro assi che vuoi tu, eh? Giusto, perché ce ne sono talmente tanti che... Eccoli qua. Ok. Allora, ti spiego cosa andremo a fare. Sì. Adesso tu dovrai scegliere uno di questi quattro assi. Ok. Io te li stendo qua così, mi girerò e tu ne prenderai uno. Ok. Però aspetta, prima voglio dirti una cosa. Io nelle note del telefono, è presente anche il tuo iPhone qui nelle note classiche, ho varie liste di oggetti, di cose mie private, ma soprattutto ho una nota che si chiama l'asso mancante. Così. Questo perché? Perché tu ora, quando mi girerò, prenderai l'asso, non lo guarderai, lo toglierai tra questi e sarà l'asso appunto mancante. Fiata. Facile, no? Fighissimo. Quindi, mi copro, prendi uno dei quattro assi, quello che vuoi, senza guardarlo, metterlo magari più avanti, più indietro, non lo so, e poi prendi gli altri e squadra le tra di loro. Sì. Questo, non so, magari perché potresti pensare che io avessi, non so, sapessi l'ordine. Sì, sì, ok. Comunque, non coperti e tutto. Ma la cosa interessante è che ora, io non so che asso sia, ma soprattutto non lo sai neanche tu, non lo sai nessuno. 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 Io ti ho detto che nel telefono ho una nota con l'asso mancante. Questa, se succede, è assurdo. Lo col telefono. Ok. Ok, ti chiedo, vai tu a aprire le note. Mi sa nella pagina dopo. Vai, note. Ok, vedi? Non stavo mettendo carta, mancante, l'asso mancante, l'oggetto mancante. Apri l'asso mancante, apri tu, fai tutto tu. Lascio vedere qua. Sì. L'asso mancante. Vai, vai, vai. Asso di cuori. Asso di cuori. Già, che hai scelto tu l'asso. Mi sparo? Nessuno sa. Nessuno. Non può essere. Giralo. Ma come è possibile? Magia. Come cacchio è possibile? Non ho spiegazioni. Neanch'io. Funziona sempre. È bellissimo. Piace? Fighissimo. Fighissimo. 100-0. Anche secondo me. Così. È fighissimo. Però aspetta. È. Perché ho una cosa in più da farti vedere. È. Perché con le carte, cioè soliti sono sempre giochi di carte. Giochi di carte. È classico, sì. Voglio provare a fare qualcosa con gli oggetti. Ok. Non esistono app con oggetti e tutte. Non ho mai visto. Quindi è fighissimo. Questa è la routine, una delle due incipitaci di più. Ok. Allora, prendiamo tre oggetti. Sì, che li abbiamo qua. Allora, cubo di Rubik per forza. Ho preso una chiave. Una chiave. Scelta prima. Esatto. Chiaramente è un pennarello. È un pennarello. Ti dico, la scelta degli oggetti è completamente casuale. Sì, sì, sì. Nel senso che puoi scegliere tu gli oggetti che vuoi. Posso farti prendere gli occhiali, che ne so, posate, tutto. Ok? Ok. Quindi non è che sono forzati gli oggetti di niente. Ok. Non li abbiamo decisi perché sono carini da vedere. Esatto, esatto. Allora, ti spiego cosa dovrei fare. Ancora una volta io mi copro gli occhi e tu dovrai scegliere uno di questi oggetti. Ok. Però una critica che spesso mi viene fatta perché appunto sto usando il telefono è che magari questo potrebbe avere, non so, dei comandi vocali, visivi, queste cose qua. Quindi per togliere ogni dubbio, ora io ti farò fare dei movimenti che appunto ti toglieranno tutti questi dubbi. Certo. Certo. Quindi, prima di tutto, io chiudo gli occhi. Sì. E ti chiedo di pensare di togliere uno di questi oggetti senza toglierlo davvero, ok? Quindi scegli un oggetto e ce l'hai solo tu in testa. Fatto. Ora, per far capire a loro che oggetto hai preso, scambia gli altri due. Quindi non vai a toccare il tuo oggetto, ma scambi gli altri due. Fatto. Hai fatto? Sì. Bene, ora potresti pensare magari che ci sia, non so, un comando vocale o qualcosa. Quindi dico a caso due oggetti ad alta voce, tipo, che ne so, cubo di Rubik e penna. Sì. Scambiali, così per confondere ancora di più. Ok. Hai fatto? Sì. Bene. Ora, se vuoi, scansa anche gli oggetti. Scansali via. Sì, sì, spostali, spostali. Ottimo. Così tutti sanno che oggetto hai preso. Tutti lo sanno. Abbiamo confuso ogni cosa, ma tu lo sai perfettamente, loro lo sanno, io no. Però ti ho detto che all'interno delle note, ho appunto una nota, vai pure... Guarda qui, ho una nota. Sì. Con l'oggetto mancante. L'oggetto mancante. Sì. Allora, Jack, quando vuoi, puoi aprirlo. Loro sono testimoni, sanno che oggetto è. L'oggetto che hai scelto apparirà sullo schermo. Se riesci. Corretto. Corretto. È corretto. La chiave. Ho pensato alla chiave. E non l'hai mai detto. Non l'ho mai detto mai. Fighissimo. Assurdo. Fighissimo. Piacere molto. Veramente, veramente figo. Complimenti. Note, puoi vederle, sono note normali. Complimenti. Fighissimo. 100 a 0 ogni gioco con le app che abbiamo mai visto per ora. Figata, vero? Veramente figo. Questo lo voglio anch'io, non ce l'ho, quindi... Questo... Dopo te lo faccio pagare il doppio, sì. Grazie, Aide. Bene, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto anche a voi. Ti ringrazio, Jack, per aver fatto l'aspettatore. E niente, vabbè, trovate Missing. Ci sono i link in descrizione per scaricare l'app. Io scombino il cubo e tu devi risolverlo. Posso farlo in modo magico? Eh, se vuoi. Passandolo sulla schiena, ma è un classico. È un classico. È un classico. È un classico. Oh... Me ne vado. Ho 5 cubi di sulla schiena. Ciao. Ciao, raga.